che verso che fa leo leoni amsterdam 1910 radda inchianti 1999 il verso è questo non voglio applausi non merito all'oro ora leo leoni è un artista di livello mondiale forse avete libri suoi in casa e non lo sapete cercate nei libri per bambini pensate che marinetti lo invitò a prendere parte al movimento futurista poi grazie alle leggi razziali del nostro stato fu invece costretto a migrare negli stati uniti e lì a collaborare con i più grandi artisti di quel tempo era soprattutto portatore di un'idea di arte non come momento piacevole di svago ma come elemento fondante della società cioè che dà e offre cittadinanza a chi la pratica e a chi ne usufruisce ossia un'idea di arte come lavoro una cosa impressionante allora in un libro famoso racconta la storia di una comunità di topini che si apprestano ad affrontare l'inverno quindi a sconfuori raccolgono chi una vacca chi un chicco di grano secondo le proprie possibilità se non che c'è un topino che rimane un po in disparte gli altri lo vedono e gli chiedono scusa federico questo è il titolo del libro ma tu stai lavorando federico dice certo io sto raccogliendo i raggi del sole l'inverno sarà freddo gli altri poco convinti se ne vanno e continuano a lavorare se non che se lo ritrovano lì un po svagato chiedono scusa federico ma tu stai lavorando certo io sto raccogliendo i colori dove avete intenzione di vivere e così il tempo passa l'inverno arriva e all'inizio tutto bene poi effettivamente le pareti della tana cominciano un po a ingregirsi i topini ad abbrutirsi e il dialogo di loro finisce alla fine in un non nulla e a quel punto che federico sale su un sasso e comincia a raccontare in versi una storia i topini a quel punto sentono di nuovo calore nel corpo le pareti della tana riprendono colore fisionomia e tutti emozionati dicono sì ce la potremmo fare ad arrivare alla fine del lockdown e dicono ancora federico ma tu sei un poeta e lui timido risponde no non voglio applausi non merito all'oro ognuno in fondo fa il proprio lavoro no 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 Grazie a tutti.